La sigla mia figlia, la sigla mia figlia La caleciana, dono sulla destra, spazio, palle in mezzo RS Palla in mezzo, la rosa fa, Valdo! Juca la rosa ci ha provato Posizione centrale, così come la barriera Fa la rosa col destro! a lato va con destra buona la palla verso 1-6 esce però bene a Cervis l'occhia ora si abbassa l'occhia a Brenner ma resti va lungo Cocco addirittura con destra 2-6 la palla in mezzo la palla in mezzo la palla in mezzo l'occhia l'occhia Manconi Manconi va col destro buona questa volta iniziativa in mezzo Giandonato Tisano con destra in giro interessante iniziativa di Capitan Tisano bene per Ballocchia a spazio Ballocchia fa con sinistra Ballocchia a Cervis bellissimo che occasione di Capitan Tisano si deve metterlo tra testa e le torne palla in mezzo il primo 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 la signora Giorgio Altare la donna prova a puntare ancora lui sulla destra grossi in mezzo pericoloso quella palla verso Bellanzi e magari a cena grazie